Siamo in un ambiente della villa di Civita Giuliana, fuori Pompei, la possibilità di realizzare dei calchi, cioè di riempire i vuoti lasciati nella cinerite, nello strato di cenere dell'eruzione del Vesuvio con gesso, è consentito qua di ottenere quasi una specie di fotografia di un ambiente abitato molto probabilmente da servi, da schiavi. Abbiamo qui un letto di una fattura molto semplice, senza materasso, con una specie di rete smontabile, qui un altro letto di una fattura un po' più elevata, cosiddetto a spaliera, si conservano i resti di colore di questi pannelli che isolavano il letto, il materasso era qui, distrutto in gran parte purtroppo dai cunicoli degli scavatori clandestini. Poi abbiamo qua due armadi, due piccoli armadi, in questo qua c'era ancora qualcosa del contenuto, tra cui oggetti in metallo, un coltello, altri oggetti, davanti una panchina che sembra quasi di un museo della città contadina invece di due mila anni fa, dunque qui si poteva sedere, negli angoli ci sono delle anfore, quindi un luogo che serviva anche come ripostiglio, come attestato anche dalle mensole che giravano intorno. Qui sopra si sono conservati tre ceste abbastanza grandi, sugli altri c'erano dei vasi, dunque un luogo pieno, un ambiente pieno di oggetti che serviva anche per almeno due persone che dormivano qui.